Cari spettatori di Gossip e Newsita, benvenuti a un aggiornamento speciale sul noto conduttore Rai, Bruno Vespa. Oggi, vi porteremo gli ultimi sviluppi riguardo alla sua positività al Covid e come sta gestendo questa situazione. Nelle ultime ore, l'amato conduttore Bruno Vespa ha annunciato la sua positività al Covid, e ha preso una decisione responsabile per la sicurezza di tutti i suoi collaboratori e ospiti. Vespa ha preferito condurre le sue trasmissioni, tra cui 5 minuti e porta a porta, da casa. La notizia della sua positività è stata comunicata direttamente dallo storico conduttore Rai mentre indossava una giacca e una cravatta impeccabile. Fortunatamente, secondo quanto comunicato da Vespa stesso, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. Durante le trasmissioni da casa, ha mostrato solo lievi segni di incertezza nella voce, dimostrando la sua straordinaria determinazione. Bruno Vespa ha continuato ad affrontare i temi di attualità con la sua consueta professionalità, garantendo così una continuità informativa di qualità. In entrambe le trasmissioni, Vespa ha annunciato gli ospiti previsti negli studi Rai, tra cui Licia Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia, e Angelo Bonelli dell'Alleanza Verdi e Sinistra. Ha trattato argomenti di grande importanza, come l'attacco di Hamas in Israele, dimostrando il suo impegno nell'informare il pubblico. Anche se l'isolamento per i positivi al Covid sembra essere diventato una pratica meno obbligatoria, Bruno Vespa ha scelto di rimanere a casa fino a quando non risulterà negativo. Questa decisione dimostra il suo rispetto per la sicurezza e la salute di coloro che lavorano con lui. Non possiamo dimenticare che Bruno Vespa, in una recente intervista del 2021, aveva sottolineato l'importanza della vaccinazione contro il Covid, considerandolo un nemico da abbattere. Aveva anche ricevuto il richiamo e una dose di potenziamento, dimostrando la sua determinazione nella lotta contro il virus. Per quanto riguarda le sue condizioni attuali, ci teniamo a rassicurarvi che, secondo quanto trapela, Bruno Vespa sembra mantenersi stabile e in buone condizioni di salute. Nonostante i sintomi minimi, continua a lavorare dalla sua abitazione e si preoccupa costantemente del benessere dei suoi collaboratori. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e vi aggiorneremo appena avremo notizie fresche. Infine, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Notizie e Gossip, a lasciare un mi piace se avete trovato queste informazioni utili e a condividere i vostri pensieri nei commenti qui sotto. La vostra partecipazione è fondamentale per continuare a fornire aggiornamenti su storie come questa. Restate sintonizzati e continuate a seguire i nostri aggiornamenti. Grazie.